Quando abbiamo deciso di sposarci abbiamo detto vabbè se proprio dobbiamo rinunciare a qualcosa rinunciamo al fotografo Ero un po' terrorizzata appunto dal fatto di dover avere quel giorno qualcuno che fosse in mezzo a noi in maniera invadente Perché ho detto questa deve essere per me una festa senza nessuno che mi chiede di girarmi, guardare E quindi abbiamo detto vabbè ci facciamo fare le foto dagli amici Tanto adesso con tutte le applicazioni che ci sono con quelle facciamo una sorta di album E poi in realtà quando abbiamo conosciuto voi abbiamo detto però effettivamente secondo me loro fanno un bel lavoro Secondo noi potevate dare quel servizio che noi volevamo e ho detto eh questo potrebbe essere quello che voglio